Diciamo che ho lavorato per trovare una sintesi che mettesse d'accordo tutti. A Milano come a Napoli, a Torino come a Roma e come a Bologna e sono contento di averci messo qualche giorno in più ma di aver trovato l'adesione di tutti. Penso che la presentazione ufficiale di Luca e della squadra sarà settimana prossima. Stiamo lavorando per organizzarla giovedì o venerdì prossimi per avere la presenza di tutti. La mia ambizione è di presentare alla città una squadra di 4, 5, 6, 7 persone che dal mondo delle professioni, questo è l'atto di umiltà che come Lega e come centrodestra abbiamo fatto, coinvolgere il mondo delle professioni con i partiti che non fanno un passo indietro perché ci siamo con orgoglio ma fanno un passo a lato.